La crisi idrica che investe a C. Sant'Antonio ha avviati i lavori per sostenere la città per sostituire 500 metri di condutture in via Montale a Santa Maria alla Stella. Calcio si movimenta il mercato della Cileale, in poche ore messi a segno due colpi, tra cui Mario Giappone, tra i migliori portieri under della categoria. L'appuntamento con l'informazione di TG Reporter. All'interno di questo nostro telegiornale continueremo a parlare di cronaca e in particolare dei controlli da parte dei carabinieri sia ad Asci Castello che ad Asci Reale nei luoghi in cui si concentra la Movida. Denunciato un 53enne per furto. Parleremo anche del palato marchio di Via Grande che è stato inaugurato domenica. La struttura diventerà la casa delle squadre di basket e pallavolo Via Grandesi. Infine, per la scherma, la catanese Rossella Fiammingo ha conquistato una medaglia di bronzo ai mondiali in corso in Egitto. Oggi in campo il fioretto femminile è la spada. Prima parte del nostro telegiornale dedicato interamente alla cronaca. Partiamo con la notizia sentita nei titoli. Sono due i gruppi di spaccio sgominati dalla polizia a Catania. Il primo trafficava in cocaina e aveva la propria base operativa nel quartiere di San Giovanni Galermo. Il secondo era dedito al traffico di marijuana e aveva la propria base operativa nel quartiere di San Berillo Nuovo. 28 i provvedimenti restrittivi nell'ambito dell'operazione denominata Blanco, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. Le indagini della squadra mobile di Catania, che hanno permesso di sgominare le due organizzazioni criminali, sono state avviate a seguito del ferimento a colpi d'arma da fuoco di Anthony Scalia, 30 anni, avvenuto la sera del 30 settembre del 2018, nonché del tentato omicidio commesso la sera del 12 novembre dello stesso anno del pregiudicato Giuseppe Laplaca. All'indomani del ferimento, Anthony Scalia veniva arrestato dagli agenti della sezione antidroga, poiché è trovato in possesso di 675 grammi di marijuana. La stessa sera i poliziotti in un parcheggio scoprivano una pistola semi-automatica con matricola cancellata, un revolver e cartucce varie. Successivamente, in un loculo del cimitero comunale di Catania, veniva ritrovato un sacco utilizzato per il trasporto delle salme, contenente altre armi. Dai ritrovamenti di droga e armi veniva così avviata una massiccia azione investigativa, supportata da intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, nonché con sistemi di videoregistrazione. E alla fine sono state le intercettazioni ad incastrare gli spacciatori, e non sono bastati nemmeno i depistaggi in codice. Addirittura anche i nomi erano creptati, Denise per Maurizio Salici, Zia Franca per Francesco Ieni, Letizia per Lorenzo Ferlito. La marijuana veniva invece individuata con Agnello o Copertoni. Tra gli arrestati, pregiudicati catanesi Lorenzo e Michele Schillaci, considerato tra i capi del coordinamento di Cosa Nostra nel Catanese, e Michele Fontana Rossa, nonché un trafficante calabrese, Giovanni Minnici. I tre, insieme ad alcuni membri del gruppo criminale, sia a Catania sia in Calabria, ogni settimana sarebbero riusciti a far giungere nel capoluogo Ettenneo, nonché nell'Agrigentino, ingenti forniture di cocaina, avvalendosi di svariati corrieri dell'organizzazione, che nascondevano i carichi di sostanza stupefacente in doppi fondi ricavati nelle varie autovetture. La cocaina, che veniva stoccata in un'abitazione nella zona di Mascaruccia, serviva per l'approvvigionamento delle principali piazze di spaccio del capoluogo, tra cui quella di via Capopassero. E' uno spacciatore catanese di 24 anni, già agli arresti domiciliari, è stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante, con il supporto del nucleo cinofili di Nicolosi, in casa della giovane è stato trovato un quantitativo di droga che il 24enne ha consegnato spontaneamente ai militari. La droga era conservata all'interno di un barattolo già suddiviso in dosi, tenuto in camera da letto. 12 grammi di marijuana da lui tenuta, ma in casa è stato trovato anche un bilancino di precisione del materiale idoneo al confessionamento della droga, mentre sul tavolo della cucina sono state trovate ben 563 euro, frutto del provvento di spaccio. Il tutto è stato sequestrato insieme all'impianto di videosorveglianza collegato ad un televisore per controllare l'esterno dell'abitazione. Ancora un weekend all'insegna dei controlli da parte dei carabinieri nei luoghi dove si racchiude la movida. Controlli questa volta che si sono concentrati ad Acicastello e ad Acireale, denunciato per furto un 53enne. Proseguono senza sosta i controlli da parte dei carabinieri in diverse zone considerate strategiche, sia a Catania che provincia, al fine di garantire la sicurezza dei residenti e combattere dunque la mala movida, soprattutto nel weekend. Un catanese di 53 anni è stato denunciato per furto di un cellulare dei militari. Il fatto si è verificato all'interno di un bar ad Acicastello con il tempestivo intervento dei carabinieri che hanno trovato in pochissimo tempo il ladro. I controlli però da parte dei carabinieri della compagnia di Acireale con il supporto dei colleghi del XII Reggimento Sicilia si sono concentrati anche sulla verifica del rispetto delle norme del codice della strada. Una cinquantina le persone identificate fermate dalle pattuglie in corrispondenza di principali snodi viari. Ad Acicastello ad esempio nella zona dei due lungomari, di Scardamiano e Scogliera, mentre ad Acireale, zona Capomolini, centro e frazioni a mare. Una trentina i veicoli verificati e sanzionati per assenza di copertura assicurativo per guida senza patente o per mancanza di revisione. Un centauro infine è stato sorpreso alla guida della sua moto, privo del casco di protezione. Operazione a contrasto del lavoro nero da parte della Guardia di Finanza di Catania che ha scoperto un utilizzo fraudolento dei tirocini formativi nel settore alberghiero. L'attività ispettiva svolta dalle unità specializzate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania si è concentrata su un noto complesso alberghiero, il quale avrebbe dissimulato l'esistenza di veri e propri rapporti di lavoro subordinato al fine di evadere i relativi contributi previdenziali e assistenziali da versare all'Inps e all'Inail a favore dei lavoratori dipendenti. 65 lavoratori nel periodo 2017-2020 dunque avrebbero svolto attività di tirocinio extracurriculare rimunerato solo a titolo di rimborso spese. I tirocinanti sarebbero stati impiegati a titolo effettivo come lavoratori subordinati presso le cucine quali camerieri di sala o addetti alle pulizie. Alla struttura belghiere è stata applicata una sanzione per oltre un milione e mezzo di euro. Un 24enne è stato denunciato a Via Grande per aver acceso senza abilitazione e senza licenza dei fuochi d'artificio. L'episodio è stato rilevato lo scorso 15 luglio dal personale del commissariato di Acireale nella villetta Garibaldi di Via Grande dove, come appurato dei poliziotti, durante una festa organizzata nella villa sono stati accesi fuochi artificiali, ben 7 cassette cinesi di varie tipologie e 6 vulcani, ma il tutto mancava delle necessarie autorizzazioni. La posizione del proprietario della struttura e dell'organizzazione dell'evento è tuttora al vaglio degli accertamenti al fine di verificare un eventuale concorso degli stessi nereati commessi dal 24enne. Analoghi i servizi, fanno sapere in polizia, saranno effettuati durante la stagione estiva. E ieri notte, intorno alle 22, un grave incendio ha divorato il latetto di un'abitazione privata sita in Via Guardiola a Puntalazzo, frazione di mascheri. Ignote le cause dell'incendio. Nonostante gli accertamenti effettuati dei vigili del fuoco, non è stato possibile determinare le cause del rogo. A sedare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Acireale Riposto insieme alla seconda macchina di Catania. Gravi danni materiali, ma fortunatamente non si sono registrate vittime o feriti. I proprietari, infatti, erano fuori sede, dunque la casa era momentaneamente disabitata. Adesso ci fermiamo per un primo stacco pubblicitario, a tra poco con le altre notizie. Il 26 luglio la Diocesi di Acireale festeggia la patrona Santa Venera. Dalle 9.30 Etna Channel porterà in diretta le immagini della festa attraverso canale 199 del Digitale Terrestre, nelle case di tutti i siciliani, attraverso Facebook in tutto il mondo. Acireale è in festa, onora Santa Venera. Seguiremo l'apertura della cappella. Il pontificale è dalle 10.30, preseduto da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Sciacca, Vescovo Accese, Presidente dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica. La sera, alle 19.45, diretta del Giro d'Onore del Fercolo con il busto reliquiario di Santa Venera, accompagnato dalle antiche candelore per il centro storico. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del Dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Euronics a Cireale. Più vicini, con più cura. Grande punto vendita a portata di mano. Siamo su Via Cristoforo Colombo 12, direzione ingressa autostrada, ex arredamenti Gallina. Prova la comodità di un parcheggio riservato a te. La convenienza su tantissimi articoli in offerta. Personale sempre disponibile a consigliarti. Che aspetti? Euronics a Cireale. Informatica. Gaming. Telefonia. TV e audio. Eletrodomestici. Video, foto, droni. Mobilità elettrica. Smart Home. Euronics a Cireale. Via Cristoforo Colombo 12. Provaci! Control Tech. Professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti. Riparazione e vendita accessori informatici. Risme di carta. Cartucce e toner originali ed eco-compatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech. Elaborazione grafiche, loghi e stampi di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati. Inviti e partecipazioni. Timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittoria Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Farmacia Cipriani. Se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato H24. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Farmacia Cipriani. Nel centro del centro storico di ACI Reale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Quante auto vorresti? Un'elettrica per la città? Una 4x4 per arrivare ovunque? Una sportiva tedesca? Un'ibrida per le avventure di ogni giorno? Quando quello che vuoi è tutto. Nuovo Opel Grandland Hybrid Plug-in. Be yourself. Get everything. Concessionaria Opel G d'auto. A riposto sulla strada statale 114 km 70,78. E a Catania, in via Vitaliano Brancati. Seconda parte del nostro telegiornale, che apriamo andando a Via Grande, dove domenica è stato inaugurato il Palato Marchio, che diventerà questo la casa delle società sportive di basket e pallavolo locati. È stato inaugurato la scorsa domenica il Palazzetto dello Sport di Via Grande intitolato a Rosario Tomarchio, definito da molti il papà della pallavolo viagrandese. A tagliare il nastro il sindaco Francesco Leonardi, insieme all'assessore regionale delle infrastrutture Marco Falcone. La struttura di Via Sergente Sapienza è stata realizzata grazie al mutuo concesso dal credito sportivo per un importo di 607.000 euro e permetterà di ospitare gare agonistiche di basket e pallavolo. Oltre al campo in parquet per queste due discipline sportive, infatti, la struttura è dotata di due spogliatoi, una tribuna per 99 spettatori, una zona per i giudici di gara, un'area per il pronto soccorso è un'area destinata ai servizi per il pubblico. Domenica abbiamo avuto finalmente il piacere di inaugurare questa palestra che ormai il Paese attendeva da tanti anni. Siamo veramente felici anche perché, dicevo, abbiamo visto un po' i trascorsi di questa palestra che inizialmente era solamente una struttura in cemento armato, c'era solamente proprio la forma della palestra con un tetto e quindi negli anni abbiamo potuto vedere come di questo edificio era solamente un posto per le colombe. Poi, qualche anno fa, visto proprio l'inutilità della palestra, lo abbiamo così adattato ad un parcheggio per gli insegnanti mentre adesso siamo nelle condizioni di poterlo dare alla gente. E' stata una bella operazione perché inizialmente l'importo che abbiamo avuto tramite il credito sportivo era un importo che era dedicato all'altra palestra, quella di Via Poio. Poi però, fortunatamente, avendo avuto il finanziamento da parte del governo regionale di Musumeci tramite l'assessore Marco Falcone e quindi lì abbiamo optato e fra poco consegneremo anche all'altro palazzetto quindi lo faremo con il finanziamento pubblico quindi poi abbiamo travasato il mutuo in questa palestra e l'abbiamo resa così bella e funzionale. Di questo non possono ringraziare oltre la mia squadra, insomma la Giunta e il Consiglio Tutto, ma il mio ufficio tecnico, nelle persone dell'ingegnere Faro, il capo aree, dell'ingegnere Pulvirenti, dell'ingegnere Bruna perché hanno anche provveduto a presentare, a preparare un progetto funzionale. Il palato marchio fungerà però anche da palestra per la vicina scuola primaria durante le ore pomeridiane. Sarà invece utilizzata dalle locali e società sportive di basket e pallavolo, ma non solo. Abbiamo realizzato, visto che questo palazzetto principalmente va utilizzato perché questo è il motivo principale di questo progetto, verrà utilizzato dai bambini della scuola elementare che vedete che è alla nostra sinistra, quindi saranno loro i primi fruitori di questo palazzetto. A seguire poi abbiamo delle squadre professionistiche di basket e di pallavolo quindi che prenderanno anche, come dire, possesso da un punto di vista sportivo di praticare lo sport qua dentro, ma ritengo anche che un altro intervento più importante è quello che qua dentro entreranno anche i ragazzi del centro del CSR, il centro ciliano di riabilitazione dove quindi anche i bambini diversamente abili potranno praticare lo sport. Parliamo d'altro lavoro in corso ad ACI Sant'Antonio per sostituire le condutture idriche vetuste di Via Montale a Santa Maria La Stella. Lavori non preannunciati che in un primo momento hanno sollevato lamentele da parte dei residenti e degli esercenti del posto, ma alla fine ben accetti, visto che i disagi sono limitati e soprattutto per una, come dire, giusta causa. I lavori di sostituzione delle vetuste a condutture idriche esistenti che consentiranno di aumentare la portata dell'erogazione idrica dando risposte alla crescente sete registrata dai residenti della frazione sant'antonese di Santa Maria La Stella. Un intervento atteso da un ventennio. Finalmente i nuovi vertici ACO7 hanno dato impulso e risposte ad una richiesta di intervento. I lavori in Via Montale interesseranno circa 500 metri di strada con la posa di una nuova tubatura volta a eliminare le perdite sotterranee di una conduttura ormai colabrodo. E così dopo l'allaccio alle condutture SOGIP volto ad aumentare il volume di litri al secondo per le frazioni di Monte Rosso e Lavinaio ACO7 ha chiesto l'autorizzazione per effettuare lavori di posa di una condotta idrica lungo la Via Eugenio Montale per potenziare, come detto, la rete idrica di distribuzione presente mediante la sostituzione della tubazione che evidentemente risulta di diametro insufficiente. Abbiamo dato subito seguito alla richiesta, ci dice il sindaco Santo Caruso autorizzando i lavori lo stesso giorno consapevoli del fatto che è necessario intervenire tempestivamente e con decisione per migliorare lo stato in cui versa la distribuzione idrica nel territorio. Per questo, appena appreso di questa possibilità non ci abbiamo pensato sopra più del necessario facendo in modo che i lavori partissero al più presto. Certo, aggiunge Caruso, quasi a voler rispondere alle lamentele registrate sappiamo che i lavori pubblici generano sempre dei disagi ma in questo caso il prezzo da pagare appare ridotto alla luce del beneficio del quale finalmente l'utenza potrà giovare. Restiamo in zona ad A.C. Sant'Antonio per parlare della seduta di Consiglio Comunale che si è tenuta ieri sera una seduta piuttosto rapida che ha messo tutti d'accordo all'unanimità dei consiglieri presenti sia di maggioranza che di opposizione è stata approvata una variazione che è inserito nel bilancio di previsione 2021-2023 dei contributi ministeriali ricevuti dall'ente per interventi di indagini di rischio sismico sugli edifici scolastici valutata l'opportunità e l'utilità di tali finanziamenti statali hanno dichiarato i consiglieri di minoranza Finocchiaro e Privitera che mirano a garantire la sicurezza degli edifici scolastici sant'Antonesi tutto ciò a maggior tutela dei nostri concittadini in particolar modo degli alunni e del personale scolastico abbiamo deciso di votare favorevolmente e responsabilmente la proposta da A.C. Sant'Antonio a A.C. Reale dove stasera torna a riunirsi con inizio alle 19.30 il Consiglio Comunale in attesa di incardinare la seduta nel corso della quale il civico consenso andrà a discutere e votare la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Ali stasera il Consiglio tratterà alcune mozioni proposte dei consiglieri comunali tra cui quella relativa ad A.C. Greenway e sul cimitero comunale giovedì 21 luglio con inizio alle 12 al Palazzo di Città avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della festa in onore della patrona Santa Venera interverranno il sindaco Ali insieme al vescovo della dioce Simonsignor Antonino Raspanti e con loro anche il presidente del Consiglio Fabio Fontanesca l'assessore alla cultura Fabio Manciali e il presidente della Reale Cappella di Santa Venera Simona Postiglione ondata di coalore in questi giorni la protezione civile ha diramato di fatti un bollettino meteo per allerta rossa in Sicilia alta l'attenzione anche per quanto riguarda gli incendi la tregua è finita un nuovo avviso diramato dal Dipartimento regionale della protezione civile della regione siciliana ha diramato allerta rossa sull'isola per il caldo e rischi incendi infatti saranno previste alte temperature con punte massime che supereranno di gran lunga i 30 gradi ed elevato rischio incendi secondo le previsioni le province coinvolte nella fase rossa di attenzione per rischio incendi ed alto livello di pericolosità sono Palermo, Agrigento, Caltanissetta ed Enna leggermente migliore la situazione a Catania e nel resto delle province che sono sempre interessate da una fase di preallerta arancione con pericolosità media di incendi la fase di attenzione si prevede anche per la provincia etnea che in questi ultimi giorni è stata soggetta a diversi incendi di cui uno sviluppato l'altro ieri nella zona del casello autostradale 10 Reale sulla 18 che collega Catania a Messina caldo e temperature saranno in aumento arrivando a toccare picchi di 36 gradi visti i forti disagi si raccomanda di non uscire nelle ore più calde del giorno tra le 11 e le 18 altrimenti occorre proteggere il capo con un cappello chiaro e con occhiali da sole è importante proteggere la pelle da scottature con protezioni solari mentre per i padroni di animali è consigliata la scelta di tratti con ombra fresca da vegetazione edifici o alberi oppure passeggiare vicino al mare per potersi rinfrescare con un tuffo ci fermiamo per un altro stacco pubblicitario se volete comprare un'auto nuova prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta Garozzo SRL autorizzato Renault e Dacia a Daci Reale venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate vi garantiamo finanziamenti agevolati attuazione dell'offerta in atto dalle case madri servizio assistenza ricambi ed accessori originali vettura sostitutiva in sede Garozzo SRL autorizzato Renault e Dacia a Daci Reale in via Loreto Balatelle 144 per qualsiasi informazione 095 76 51 805 Hai cambiato auto? Sì, cambio quando voglio l'utilitaria per la città l'auto più grossa per i lunghi viaggi quella elegante per le grandi occasioni Hai vinto al Super Enalotto? No, ho scoperto la convenienza dell'autonoleggio Miami niente più bollo niente assicurazioni niente responsabilità con una piccola cifra giornaliera senza carte di credito niente cauzioni vado, faccio benzina e torno chilometri illimitati Autonoleggio Miami auto, furgoni, auto per cerimonia vieni a scegliere la tua nella nuova grande esposizione di Via Lazzaretto di fronte alla cittadella del Carnevale informati e prenotati allo 095 826 41 55 o presso i nostri uffici in via Vittorio Emanuele II 41 Piazza Carmine a Cireale Fatti un piccolo regalo destinando il 5 per 1000 alla misericordia perché la misericordia sei anche tu dona il tuo 5 per 1000 per la nostra comunità per aiutarci ad aiutare anche in questo tempo di pandemia le misericordie sono al tuo fianco ora puoi fare anche tu la tua parte aiutaci ad aiutarti dona il tuo 5 per 1000 alla misericordia di Acireale dal 1979 al servizio della vita scegli il sostegno del volontariato scrivendo il codice fiscale 810 057 30 874 grazie di cuore la tua salute è importante affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo da noi potrai trovare un vasto assordimento di farmaci e parafarmaci un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali omeopatici e fitoterapici prodotti per l'infanzia calzature termocosmesi make up idee regalo igiene nutrizione sport veterinaria reparti curati con passione e massima professionalità vienici a trovare in via nazionale guardia 196 ad Acireale si effettuano tamponi rapidi antigenici e rilascio green pass tutti i giorni compresa la domenica ma che fu che è successo qui è aiuto e chi è mi montassero già tutte cose e io pensavo che stavo sognando ma questa è realtà questa è magnificenza e è un sogno la Sicilia traslocchi smontiamo rimontiamo imballiamo trasportiamo modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi viaggi settimanali da e per il nord copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai stasera al teatro rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali tutti i mercoledì sera in prima serata ore 21 e 10 in replica il venerdì pomeriggio ore 16 e la domenica alle 23 su Etna Channel le compagnie teatrali di tutta la Sicilia interessate a mettere in onda le proprie opere possono inviare una mail di richiesta a info chiocciola radioecnespresso.it si svolta sabato scorso la 57esima edizione del premio Aci e Galatea una serata dedicata alla pace nel mondo e alla premiazione di diversi artisti ed imprenditori d'eccezione il pubblico delle grandi occasioni è tornato in piazza Duomo per partecipare alla 57esima edizione del premio Aci e Galatea una serata con grandi premiati siciliani locali e nazionali e con l'assegnazione di borse di studi a giovani studenti tutto in un abito attelagante che rispecchia lo stile della città di Acireale emozionante la consegna del premio a vice brigadiere Sebastiano Giovanni Grasso un grande riconoscimento anche per due cesi doc il panificatore Francesco Ardita e il ristoratore Pietro Palamidessi di grande spessore gli interventi dei premiati d'eccezione la scrittrice Catena Fiorello il cantautore Giovanni Caccamo l'attore Totò Cascio e il giornalista Giuseppe Lavenia è un privilegio essere nati in questa terra sicuramente è una grande fortuna perché anche il nostro essere acuti osservatori mai superficiali ma se devo dire qualcosa alla mia terra è soltanto grazie e tutto il resto è quello che mi ha dato sono molto felice di essere qui con l'amico Salvo Noè insomma erano un paio d'anni che ci ci ripromettevamo di riuscire ad essere insieme per questo premio per questa serata così speciale nella nostra terra naturalmente quindi sono molto felice il premio condotto da Ruggero Sardo ha offerto momenti di spettacolo e di intrattenimento con una sfilata di abiti realizzati dagli studenti del liceo artistico 10 Reale tutto organizzato dal dottor Salvo Noè e per la prima volta dopo dieci anni di assenza dal direttore artistico Giulio Vasta la serata sarà trasmessa nei prossimi giorni su Etna Channel e Video Mediterraneo abbiamo cercato di fare anche quest'anno un premio che rispetta la tradizione ma che si rinnova perché vogliamo in qualche modo dare nuovi spunti e nuove possibilità non soltanto ai giovani che verranno premiati ma anche a quelli che hanno dimostrato con coraggio e tenacia di realizzare il proprio sogno e di realizzare il proprio talento strage di via D'Amelio le istituzioni ricordano le vittime Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta anche a Cireale ricorda il trentennale della strage di via D'Amelio il sindaco Stefano Alì gli assessori il presidente del consiglio comunale Fabio Fontanesche di consiglieri comunali ricordano il magistrato Paolo Borsellino e cinque membri della sua scorta barbaramente assassinati per mano mafiosa il loro sacrificio ha detto il sindaco Alì deve costituire un motivo per le generazioni future affinché si vada oltre il mero ricordo delle vittime e si tengano sempre condotte che contrastino gli illeciti di ogni genere le istituzioni in questo senso hanno un compito fondamentale e devono costituire un esempio attraverso comportamenti concreti e non attraverso l'enunciazione di parole o concetti roboanti che poi vengono sovvertite dai fatti praticando l'illegalità questa sera con inizio alle 20 e 30 al Palazzo del Turismo di Ascireale su iniziativa della Fondazione Carnevale verrà rappresentato lo spettacolo Una Rosa Pittia con protagonisti Mario Sorbello e Rosaria Motta si tratta di un omaggio a Ignazio Buttitte e a Rosa Balistreri promosso dalla Fondazione nell'ambito della Festa del Mito Festa grande ad Ascireale per i cento anni di Annina Grasso Leanza la nonnina è stata festeggiata per il suo primo secolo di vita dai parenti più stretti dal sindaco Elì il primo cittadino le ha consegnato una targa ed un mazzo di fiori in presenza dei figli Giovanna Peppino Caterina e Franco oltre che di nipoti e pronipoti non sono mancati i momenti di emozione anche qualche racconto da parte della signora Leanza consorte dell'indimenticato avvocato Francesco che fu amministratore cittadino nonché presidente illuminato dell'azienda autonoma delle terme di Ascireale capace di promuovere un movimento culturale di primo ordine soprattutto sul fronte della pittura scomparso nel febbraio dell'87 a 71 anni lo sport partiamo con il calcio Ascireale prosegue il calcio mercato con l'arrivo in squadra del difensore Brugaletta e del portiere Giappone se nei giorni scorsi Vittorio Strianese ha seminato adesso si cominciano a vedere i primi frutti del suo lavoro dopo la conferma di Savanarola sabato lunedì pomeriggio è stata la volta di Brugaletta che costituirà l'asse portante della difesa probabilmente a 4 della squadra di Mister Marchese 28 anni qualche presenza anche in serie C Brugaletta ha giocato la maggior parte della sua carriera in D con le maglie di Gela Chieti e Sant'Agata nelle ultime due stagioni si tratta di un giocatore molto versatile che preferisce giocare da esterno a destra ma che può tranquillamente rivestire anche il ruolo di difensore centrale dell'arrivo di Brugaletta si parlava da diverse settimane quindi l'ufficializzazione del suo pro di in granata nella serata di lunedì non ha stupito nessuno sicuramente si tratta di un innesto di qualità che la Cireale non stia facendo una formazione per vivacchiare lo dice però molto di più la notizia arrivata oggi del tesseramento del portiere Mario Giappone che ha già incrociato le strade della Cireale nelle passate stagioni ma da avversario il futuro numero 1 della Cireale classe 2001 già nella stagione 2018-2019 quindi a soli 17 anni è difeso da titolare la porta del Marsala poi poche presenze la stagione successiva tra Chieri e Taranto prima di tornare in Sicilia l'anno dopo a difendere da titolare alla porta del Dattilo ottima stagione quella disputata da Giappone a Trapani con i biancoverdi con 24 presenze e diverse parate importanti che hanno contribuito all'ottimo piazzamento finale dell'11 siciliano lo scorso anno nuova esperienza fuori dalla Sicilia con Brindisi e Arzachena insomma un estremo difensore giovane ma esperto che potrà sicuramente dare il suo contributo per una stagione di un certo livello la scherma adesso la catanese Rossella Fiammingo conquista la medaglia di bronzo ai mondiali di scherma in Egitto la prima medaglia dell'Italia ai mondiali di scherma in corso di svolgimento in Egitto al Cairo porta la firma della catanese Rossella Fiammingo una medaglia di bronzo quella conquistata dall'atleta appartenente ai carabinieri battuta ieri in semifinale di spade dalla tedesca Nolo 15-10 un bronzo importante per la Fiammingo che si conferma ad alti livelli dopo l'argento degli europei di Antalya quando mi hanno chiamato per la presentazione della semifinale ammetto che mi veniva da piangere affermato a fine gara all'Azzurra sono soddisfatta a metà ho la stessa sensazione dell'argento europeo finché non vingo loro non riesco a essere pienamente soddisfatta ma dopo tanti anni senza medaglie mondiali sono contenta dopo gli europei ho pensato forse sono tornata però volevo una conferma e oggi l'ho avuta sono felice di essere qui nonostante tante difficoltà fisiche e mentali dopo gli europei ho avuto anche il covid non stavo benissimo ma non mi interessava volevo arrivare qui e ci sono riuscita dando tutto ogni assalto per me è stato come una finale per le altre spadiste azzure si registra un sesto posto per Mara Navarria mentre Federica Isola è stata eliminata ai sedigesimi di finale e Alberta Santuccio ai trentaduesimi da questa mattina invece sono cominciate le fasi finali del fioretto femminile e della spada maschile per l'Italia in pedana Alice Volpi Arianna e Rigo Martina Favaretto e Francesca Palumbo tutte nel tabellone dei trentadue per la spada maschile invece avanzano nei trentadue Davide Diveroli e Federico Vismara eliminati Andrea Santarelli e Gabriele Cimini e chiudiamo adesso dando uno sguardo alle previsioni meteo per domani cielo sereno poco nuvoloso le temperature registreranno valori compresi tra i 24 e i 30 gradi venti moderati mare poco mosso è tutto per questa edizione prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter in onda domani a partire dalle 13.40 grazie per averci seguito grazie per averci seguito